L'impianto per il trattamento meccanico-biologico di Battipaia non è utilizzabile perché paralizzato da tonnellate di frazioni di umido da smaltire e ammassate nella struttura di via Bosco II, dove non è bastato riparare il macchinario perché tutto tornasse a funzionare. Ecco Ambiente, la società provinciale che gestisce l'ex-stir necessita infatti di decine di camion al giorno per sgomberare i capannoni colmi di immondizia dove non c'è spazio per il secco indifferenziato che oggi giace ancora davanti ai portoni e alle case dei battipaiesi. Domani a Palazzo Sant'Agostino, sede della provincia, si discuterà delle sorti della società messa in liquidazione. Intanto una lunga fila di camion è ferma davanti all'ingresso dello stir di Battipaia mentre cumuli di rifiuti stazionano per strada.